Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono sempre una delle coppie più belle e amate della tv. Ora si stanno preparando ad iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Infatti si stanno per trasferire a Villa Sebastiano, a Portofino, nel verde e meravigliosa vista mare. La villa è stata acquistata per ben 22 milioni di euro ed è stata ristrutturata, pronta ad accogliere tutta la famiglia di Pia Silvio Berlusconi.